Oggi andremo a testare insieme, a provare insieme il dupe del contour di Charlotte Tiburi e parlo di questo di Primark, costa 5 euro, quello di Charlotte tipo 36 euro, una mela più chiara ovviamente identica a Charlotte, prima però voglio andare a bloccare con i formaggi di capelli faccio due pallini così vediamo un po' anche la pigmentazione e vado a sfumarlo un po' con questo pennello a fiamma da prendere un altro pennello, molto pigmentato, secondo me bastava anche solo una goccia vi faccio un po' vedere l'effetto a luce naturale, comunque qui senza niente, qui con il prodotto sembrava di là non sfumato bene e a macchie, ha un sottotono leggermente giallastro effetto semplicemente applicando il contour vado a completare il make up, molto molto semplice ora vado a mangiare e questo è l'effetto finale, a me piace molto, ovviamente non è come quello di Charlotte però è un bel effetto